Don Dante Carraro, il prossimo 7 maggio un appuntamento imperdibile per medici con l'Africa QAM, ci spieghi qualche dettaglio, chi vi attende? Ci attende il Papa e quindi siamo molto contenti di questa opportunità che lui ci ha dato, gliel'avevamo chiesto e lui è stato molto contento di accogliere questa nostra richiesta. Il 7 maggio finalmente andremo a condividere con lui le nostre passioni, le nostre vite, il nostro quotidiano per e con l'Africa. Mi sveglio un segreto, che cosa ha giocato a vostro favore perché non penso sia così facile incontrare il Papa o essere ricevuti? Ma io credo le quattro cose che gli abbiamo scritto e la prima è il con l'Africa, noi non vogliamo essere per l'Africa, che il con è quella preposizione usata anche da Gesù, Dio con noi, insomma quel con, che vuol dire insieme all'Africa, perché così si cresce, noi e loro, questa è la prima. La seconda è le periferie geografiche, il Papa ripete tantissime volte, noi siamo nell'ultimo miglio rosso del sistema sanitario africano, quindi proprio lì dove c'è la base della piramide, dove la gente in realtà proprio continua, ma in specie le mamme e i bambini. Appunto, e la terza è quella, come dire, quello che lui continua a sottolineare, lo scarto, siamo in una società che vive di scarti e noi non possiamo accettare gli scarti, le mamme e i bambini sono proprio la fascia più vulnerabile del continente africano, che è la nostra mission, e l'ultimo quando lui anche recentissimamente ha detto i cristiani in particolare, ma tutti, non possiamo rispondere ai bisogni sanitari della gente, specie dei più poveri, con, questa è la sua frase, super cliniche private per VIP a pagamento, ma con ospedali da campo, che è quello che facciamo tutti i santi giorni. In comune colui avete...